Poco più di un mese fa seminò il panico nella filiale della banca carime di Matera. Entrò a volto scoperto dicendo che nel borsone che aveva con sé c'era una bomba. Dammi i soldi immediatamente, intimò al cassiere, altrimenti la faccio esplodere e faccio una strage dalla quale nessuno potrà salvarsi. Al rapinatore furono consegnate diverse mazzette di banconote in tutto 200.000 euro. La questura di Matera sul suo profilo ufficiale Facebook ha pubblicato i fotogrammi del rapinatore che il 4 dicembre scorso alle 15.30 si era introdotto, avviso scoperto, nella filiale materana della carime, facendosi consegnare un'ingente quantità di denaro sotto la minaccia di un taglierino. Questo volto però non ha ancora un nome per cui la questura chiede a tutti una mano. Chiunque avesse particolari sospetti li può comunicare al numero di centralino della questura di Matera, lo 0835378111. Chiamandosi potrà chiedere di parlare con il dirigente della squadra mobile in maniera assolutamente anonima. Fermare un impunito, dicono dalla questura, vuol dire evitare nuove rapine che potrebbero avere anche un esito diverso. Grazie a tutti.